Con l'avvicinarsi delle festività natalizie scatta la corsa ai regali. Tra oggettistica e idee originali, quest'anno ad andare per la maggiore, soprattutto tra i giovani, sono le piante verdi che rendono le abitazioni più gradevoli e accoglienti. Non solo le classiche stelle di Natale, il fiore per eccellenza del periodo natalizio, ma soprattutto le piante particolari. Al di là della classica stella di Natale, che comunque porta sempre gioia in casa, è una pianta originaria del Messico, questo ci tengo a dirlo, perché vuole un ambiente caldo e va tenuta in casa. È una pianta, è un'euforbia, quindi è una pianta grassa e va mantenuta con poca acqua, perché queste sono le domande classiche che ci fanno i clienti. Nei giovani invece c'è questa ricerca di piante particolari per creare una casa sempre più green, quindi ricerca di filodendri, mostere particolari, oppure sanseverie, oppure delle ambientazioni nei contenitori di vetro, che si chiamano terrari, ed è un microcosmo che viene ammirato in casa e portato in casa. Altre piante sono sempre orchidee, che ci danno una fioritura molto lunga, e poi bonsai, che sono soprattutto il ginseng, che sono i nesti che ci portano a questo ambiente tropicale, cioè un ambiente diverso da quello che è il nostro ambiente mediterraneo. Mentre per quanto riguarda le decorazioni, quali sono le tendenze di questo Natale? La tendenza quest'anno è quella di inserire colori nuovi, come il rosa terracotta, oppure un rosa più baby, o un verde azzurro. E poi, come dicevo, non può mancare il Natale tradizionale, che è quello di Babbo Natale, degli orsetti, del trenino, del cavallo ad ondolo, e su questo anche tante idee regalo, che possono far felici sia grandi che piccini.